Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Anthem in questo nuovissimo video guida in cui voglio parlarvi del parametro fortuna, cos'è, come funziona, quali effetti ha sul gioco e spiegarvi in sintesi come poter migliorare la qualità dei drop che ottenete in tutte le attività. Questo perché nonostante il livello di difficoltà faccia gran parte del lavoro, per esempio sotto il Grand Master la maggior parte degli equipaggiamenti mitici o leggendari non sono nemmeno ottenibili, diciamo che comunque c'è il modo per migliorare statisticamente parlando la qualità dei propri drop. Sottolineo questo statisticamente perché non vuol dire che automaticamente la qualità dei drop sarà migliore, ma sul lungo termine comunque la differenza si noterà. Ma andiamo dritti al sodo, come ben saprete sotto ogni equipaggiamento ci sono delle iscrizioni, ossia dei bonus, che si applicano o a quel singolo pezzo o a tutto il nostro strale. Ne approfitto anche per aprire una parentesi. Le iscrizioni e tutti i bonus ottenibili sono ancora in parte confusionari, nel senso che non tutti sono ben spiegati. Per questo motivo ho anche intenzione di portarvi un video in cui vi spiego nel dettaglio tutte le possibili iscrizioni e tutti i possibili bonus che possono rollare sugli equipaggiamenti. Comunque ne riparleremo, era giusto per anticiparvelo. Torniamo a parlare della fortuna. Innanzitutto come funziona questo parametro? Di base la fortuna influenza la rarità dei drop che si ottengono, non quanti se ne ottengono. Avere una fortuna elevata non vorrà dire che i nemici dropperanno più spesso, ma semplicemente che quello che dropperanno potrà essere di qualità più elevata. Per questo motivo questo parametro è molto più efficace sui nemici base, piuttosto che ad esempio sugli ursics o sui nemici dello stesso tier, che già di base hanno un drop migliore. E tra tutte le iscrizioni che possono rollare sugli equipaggiamenti, ce n'è soltanto una che influisce questa statistica, ossia fortuna supporto. Una statistica che in percentuale influisce sulla nostra fortuna. Questi bonus però avranno dei limiti, ci sono infatti alcuni valori oltre i quali non ha senso avere più fortuna perché semplicemente quei valori non avranno alcun effetto. Mi spiego meglio. Di base tutti abbiamo 100 di fortuna, dall'in poi gli incrementi funzionano a scaglioni, da 100 a 109, da 110 a 119 e così via fino a 90. Quindi per farvi un esempio avere fortuna 111, avere fortuna 119 non cambierà assolutamente nulla. L'importante è semplicemente far scattare la fascia successiva e la fascia massima è del 90%. Oltre a quel valore, che sia 91, che sia 110, che sia 300, non cambierà assolutamente niente. Motivo per cui sintetizzando il tutto, il modo migliore per aumentare la qualità dei nostri drop, sempre statisticamente parlando, è avere la fortuna almeno al 90%. Cosa vuol dire? Che se devo scegliere tra fortuna al 91% di bonus e fortuna al 160% non cambierà assolutamente nulla. Ma scegliere tra 89% e ad esempio più 110% sarà meglio a questo secondo perché semplicemente ci fa scattare oltre il 90%. L'importante comunque è superare quella soglia. Inoltre vi ricordo che la fortuna affligge soltanto la qualità dei drop, non il numero. E questo parametro, questa iscrizione è l'unico modo per intervenire su questo valore. Tutto ciò che vi ho detto nel corso di questo video comunque non me lo sono inventato. Tutte queste informazioni sono arrivate direttamente o da Ben Irving su Twitter o da Holmes su Reddit. Quindi gli sviluppatori hanno effettivamente spiegato come funzioni questo parametro. Ad ogni modo ragazzi per quanto riguarda questa guida sulla fortuna e sul come aumentare la qualità dei propri drop è tutto. Se aveste ancora qualche dubbio la sezione commenti è qui a vostra disposizione. Io comunque come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento. Vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!